Quanti millilitri di inca fa un cartigone di inca connexia? Quando rilassaggi un cartigone è importante sapere quante inca contiene, perché se ti rilassaggi il cartigone c'è rischio di avere semplici, o il cartigone potrebbe perdere inca dentro del imparso. Nella descrizione di questo video troverai una lista di cartigoni inca con millilitri di inca contene. Questo non significa che puoi riempire la cartraggio usando quella quantità di inca. Questa è la quantità di inca che il tuo cartraggio contiene quando è nuovo. La cartraggio nonostante è mai completamente lenta. Ci sarà almeno 20% di inca rimane. I cartraggiosi colori e solo un colore. E quando la spagna interna diventa vecchia, non può riempire la stessa quantità di inca. Penso che puoi riempire la cartraggio con due terzo della quantità originale. Ricordate che i cartraggiosi non-XL hanno una spagna più spagna e una piccola in contenzione. Non lo puoi fare in cartraggiosi XL. Come regola generale, un milliliter di inca potrebbe improntare circa 40 pagine con un area di 5% di colore del stesso colore. I cartraggiosi Epson e tutti i cartraggiosi con tutti improntati sono solo in contenzione. Puoi riempirele fino al limite, se vuoi. Ma il chip di cartraggio manda il messaggio di cartraggio quando il cartraggio ha raggiunto il numero di impronti per questo modello. Non è importante quanto abbastanza inca inca. Questo è tutto. Siamo riempire la lista quando i nuovi cartraggiosi vengono. Se il vostro cartraggio non è nella lista, scrivete un commento. Io lo aggiungo alla lista. Ciao!